Joy, che poi in realtà si chiamava Joya sulla carta, era l'apoteosi della frivolezza e della superficialità. Un'oca, una smorfiosetta, che se la tirava per il mero fatto di avere i nonni americani, ma era una delle ragazze indiscutibilmente più carine e più desiderabili della scuola. Cantava nella band dell'istituto e aveva davvero una bella voce, cristallina, graffiante, estremamente espressiva. Un'ottima cantante insomma, una studentessa discreta, ma una persona a tratti sgradevole, arrogante, viziata come un gatto di razza da concorsi di bellezza. La nostra storia durò ben due anni. Il segreto era mostrarle tenerezza, concederle attenzione e interesse per i suoi problemi e soprattutto ripeterle spesso che la amavo. Non credo di averlo mai fatto davvero in realtà. Amarla intendo. Non mi piaceva particolarmente come persona. La nostra relazione mi sembrava solo un impegno in più, quasi un lavoro part time. I dettagli della sua vita non mi interessavano davvero e soprattutto durante l'estate fra il quarto e il quinto scoprì che non mi piaceva fare l'amore con lei, sebbene la trovassi oggettivamente carina e attraente. L'unico motivo per cui perseveravo ostinatamente in quella farsa era l'avere una pur minima certezza della mia piena virilità. Ogni volta che il pensiero di Riccardo, le insinuazioni di qualche idiota o chissà cos'altro mi instillavano dubbi sulla mia eterosessualità, tutto ciò che dovevo fare era chiamarla, sperando che fosse libera. Se riuscivo a pomiciare con lei o ad andarci a letto, non c'era nessun problema e mi sentivo subito tranquillo, anche se totalmente svuotato nel cuore e nell'animo. Inoltre il fatto che avessi una ragazza aiutava a restituire agli altri un'immagine di me più etero, soprattutto con una ragazza figa come Joy. Il fatto che non amassi particolarmente baciarla o fare sesso con lei per quanto il contatto fisico in sé fosse comunque piacevole, non costituiva un grande problema. Lo attribuivo esclusivamente al fatto che da parte mia non c'era molto sentimento. Anzi, non provavo proprio nulla per lei, il che rese i pochi incontri tra le renzuola un atto puramente fisico, quasi squallido e assolutamente privo di amore. Un qualcosa che nessun adolescente dovrebbe sperimentare, soprattutto non la prima volta. Ben ritrovati, questo è il quarto episodio di Giugno Arcobaleno, la mini playlist in cui discutiamo di argomenti relativi al mondo LGBT tratti dal mio romanzo Riccardo Lavandaffk ed io. Se vi siete persi i precedenti episodi, rimediate subito andando a cliccare sul link che vedete scorrere qui sopra. Piccolo annuncio, visto che è sempre più gente, per la verità per il momento siete in pochi, però vedo che stanno aumentando, viene a cercarmi su Instagram, ho deciso di aprire un secondo account dedicato ai libri, alla scrittura e a tutti i miei progetti. Si chiama GaiaMik Dash, scrittura intuitiva, altro Dash, e se avete Instagram potete seguirmi o contattarmi lì. Ogni giorno pubblico almeno un post e qualche storia. Detto questo cominciamo con la puntata di oggi, nella quale parleremo della repressione di tutte quelle parti di sé che sappiamo o temiamo che non verrebbero capite o accettate dagli altri. Come sapete se avete già letto il romanzo o guardato il primo episodio di questa playlist, il protagonista Victor fa fatica ad accettare la sua attrazione per un altro ragazzo. Ma non solo. Come abbiamo già detto implicitamente nella prima puntata, quella degli stereotipi, nonostante esistano infiniti modi di essere uomo e donna, ogni cultura tende a stabilire degli standard di mascolinità e femminilità. E a guardare con diffidenza e disprezzo tutto ciò che non rientra in questi standard. Contrariamente a ciò che affermano molti conservatori, la cosiddetta famiglia tradizionale in realtà è un'invenzione molto recente. Così come i ruoli dell'uomo e della donna nella coppia e nella società sono cambiati molto nel corso della storia. Ad esempio se lo stereotipo della donna di oggi è quello di una persona che non la smette mai di chiacchierare su qualsiasi cosa, agli albori dell'epoca romana alle donne era proibito o quantomeno sconsigliato di parlare in pubblico o comunque in presenza di chiunque non fosse il marito. Tanto che esisteva persino una dea del silenzio, tacita muta. La donna virtuosa era quella silenziosa. Oppure se alla notizia della morte di Camillo Benzo, conte di Cavour, alcuni in Parlamento scoppiarono in lacrime. Dante invece quando si recò alla veglia funebre del padre di Beatrice non solo gli fu impedito di entrare ma quando gli scappò qualche lacrima si guadagnò persino qualche occhiata un po' stranita perché all'epoca la cura, la veglia e anche il lutto per i morti erano considerati lavori da donna, diciamo compiti della donna. Oppure se fino al secolo scorso l'istruzione femminile se non era proibita era comunque considerata non importante in molti luoghi del nostro paese, oggi invece le donne sono mediamente più istruite degli uomini con il 60 per cento dei nostri laureati che sono donne. E che dire poi invece di tutti quei mariti che scelgono di stare a casa a badare ai figli piccoli, una cosa che solo fino a 10 o 20 anni fa era impensabile. Questa idea che uomini e donne siano più felici se possono fare ciò che vogliono o che non esistano attività esclusivamente maschili o esclusivamente femminili è una conquista molto recente, una conquista che non abbiamo ancora realizzato del tutto e che non è mai avvenuta prima della storia. Questa è una delle principali peculiarità della nostra cultura e della nostra società. Non tanto rispetto alle altre che esistono tutt'oggi ma rispetto a come noi stessi eravamo in passato. Tuttavia come ho detto questa è una conquista in progress diciamo e ancora non siamo arrivati a stabilire che ogni individuo è libero di mostrarsi come preferisce e di svolgere le attività che preferisce qualsiasi essi siano. Infatti sembrano esistere ancora alcuni tabù più o meno grandi, il che pare paradossalmente una cosa positiva perché se esiste un tabù significa che esiste un discorso su quella cosa che si sta cominciando a dialogare su di essa e a mettere in dubbio alcune concezioni. Vi porto due esempi un po' banalotti che mi sono venuti in mente adesso. Le donne con i peli sulle gambe sotto le ascelle sul linguine e gli uomini con la gonna. Se queste immagini vi fanno accapponare la pelle non è perché siano brutte di per sé ma perché lo sono per la nostra cultura. Negli anni 50 ad esempio avere un ciuffetto di peli sotto le ascelle per le donne era considerato carino e potete ancora trovare su internet molte foto di donne dell'epoca, bellissime donne con i peli sotto le ascelle, fra cui per esempio Sofia Loren. Nell'ottocento invece vedere una donna con indosso dei pantaloni generava scalpore quanto e anche più di un uomo con la gonna oggi. Insomma non esiste un modo unico o naturale di esprimere la propria mascolinità, femminilità o assenza delle due. Molti dei nostri comportamenti e gusti in questo campo sono dettati più dalla cultura e dalle nostre impressioni infantili che non da degli istinti innati. Questo nel mondo occidentale stiamo appena cominciando a capirlo e forse in futuro non ci sarà più bisogno di ricorrere ai canoni e ai valori di una data cultura per costruire la propria identità personale. Oggi però non è ancora così e lui era ancora di meno dieci anni fa, ossia il periodo nel quale è ambientato il libro. Vittor infatti da bambino viene preso in giro per il solo fatto di stare raccogliendo dei fiori da regalare alla madre e questa esperienza lo segna profondamente unita alla raccomandazione ma più che altro alla minaccia del padre di comportarsi da uomo davvero davvero maschio diciamo. Può sembrare una sciocchezza ma quando si è piccoli basta davvero poco. A quell'età la nostra mente è una spugna che assorbe avidamente ogni cosa che c'è intorno a noi, si arricchisce costantemente di sensazioni e impressioni vividissime. Anche a me accade una cosa simile e me la ricordo ancora oggi anche se male perché non mi ricordo più dove ero e con chi. Comunque dissi che avrei voluto comprare una pistola a pallini e mi fu risposto che no, quello è un giocattolo da maschi. Io credevo che i genitori di oggi avessero superato queste divisioni, queste idee un po' antiquate e invece qualche giorno fa ho sentito Shai raccontare, Shai di Breaking Italy, di aver sentito, di aver assistito a una scena molto simile, il che è avvilente. E se poi queste lezioni di vita si ripetono nel corso dell'esistenza, nel corso dell'infanzia, ecco che hai creato una gabbia invisibile attorno al bambino. Ora qualcuno sembra sentirsi a proprio agio chiuso in quei confini, qualcuno è a disagio ma non se ne rende conto, qualcun altro invece è a disagio e ne è consapevole. In queste due ultime categorie secondo me rientrano tutti quei ragazzi o tutti quegli adulti che non riuscendo o non potendo uscire dalla gabbia mettono in atto dei meccanismi e delle strategie di repressione. Il problema di questi meccanismi e di queste strategie però è che se non hanno degli effetti negativi soltanto su di noi ma anche sulle persone che scegliamo di includere nella nostra vita. Victor infatti non si limita a fare del male a se stesso, non se la tiene per sé la propria paura ma la sfoga sugli altri, sul Riccardo bullizzandolo e con gioia sfruttandola per tutelare o riaffermare la propria viriltà. Ora so che molti di quelli che hanno letto il libro detestano il personaggio di gioia, in parte posso anche dare loro ragione, però mettetevi nei suoi panni. Gioia è stata letteralmente oggettificata, sfruttata e ingannata da Victor, che nel momento in cui si pente di queste sue azioni ormai è troppo tardi, il danno è già fatto, lei è già ferita. Il motivo per cui dobbiamo superare questo bisogno di farci dettare i nostri canoni da una qualche cultura a tal punto da farla assurgere a nostra identità personale è che questo può provocare dei danni a noi e alle persone che incontriamo, cioè fa male agli individui che a loro volta faranno del male ad altri individui. La cultura così diventa un modo per distinguere noi dagli altri, quelli che ci assomigliano da quelli che sono diversi e non diventa più uno strumento per arricchire elementi né tantomeno un insieme di simboli per tenere unita una qualche comunità. Quando parlo di cultura ovviamente non mi riferisco soltanto a quella artistica o letteraria, ma a tutti i modi in cui un popolo immagina o rappresenta se stesso. Cucina, moda, relazioni sociali, il modo di salutarsi, i ruoli di genere, il codice legislativo, la religione, tutto quanto. E noi non siamo la nostra cultura, noi siamo ciò che eravamo prima di essere influenzati da essa. Negli esseri umani c'è molto poco di vero, noi siamo per lo più un insieme di costrutti. Mamma mia sto flashando, basta, chiudiamola qui. Nel prossimo episodio parliamo di bullismo, che so essere un argomento caro a molti ragazzi, anche perché persino nei luoghi della terra più progressisti se sei un adolescente LGBT quasi sicuramente ti è capitato di essere vittima di atti più o meno gravi di bullismo. Quindi sì, abbiamo già sfiorato l'argomento nei precedenti episodi, ma penso sia giusto dedicargliele uno a parte. Vi ricordo che giù in descrizione trovate tutti i miei contatti, compreso Instagram adesso, più un link per ordinare il libro. Iscrivetevi, commentate, lasciate mi piace, vedete un po' voi. Alla prossima, ciao!